Chi l'ha visto? Anticipazioni 10 maggio, si torna sul massacro di Saman Federica Sciarelli torna sull'omicidio di Saman Abbas. Aggiornamenti domani sera su Rai 3 Come tutti i mercoledì anche domani, 10 maggio, Federica Sciarelli condurrà una nuova puntata di Chi l'ha visto? Che andrà in onda sul terzo canale della TV di Stato alle 21.20 circa Aggiornamenti domani Lo ricordiamo, è stata uccisa dalla sua famiglia perché si era ribellata al matrimonio combinato, e il suo corpo è stato ritrovato dopo lungo tempo sepolto all'interno di un casolare pericolante Situato a poche centinaia di metri dal luogo della scomparsa Ma non si parlerà solo di Saman. Domani sera a chi l'ha visto si tornerà infatti anche sul caso di Emanuela Orlandi, pochi giorni dopo il quarantesimo anniversario della sparizione di Mirella Gregori Della quale si sono perse le tracce a Roma il 7 maggio del 1983, e si è sempre pensato che questa sparizione fosse collegata in qualche modo a quella di Emanuela, avvenuta il 22 giugno dello stesso anno Pietro Orlandi ospite di Federica Sciarelli nella prossima puntata di Chi l'ha visto Per parlare delle ultime novità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi nel corso della diretta di domani sera La conduttrice di Chi l'ha visto ospiterà in studio Pietro, il fratello della sedicenne vaticana Nelle ultime settimane ci sono state alcune polemiche legate a questo intricato caso e Pietro Orlandi domani dichiarerà che secondo lui all'interno della santa sede qualcuno è a conoscenza di ciò che è successo alla sorella 40 anni fa Si faranno nomi e si descriveranno circostanze finite sul tavolo del promotore di giustizia vaticana Proprio Pietro spiegherà in trasmissione cosa e da chi ha saputo notizie riguardanti Emanuela Non sappiamo invece se si parlerà anche della morte di Marzia Capezzuti, altra vicenda ampiamente trattata nelle puntate delle ultime settimane Grazie a tutti